... ... bravo Miki! ... 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 Cattura. 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 Allora, Kf9, 6-3. Oggi sono tre. Andiamo, andiamo, squadra, animo! Corri, 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 corri! Mirko, Mirko! Brava Mirko! Andiamo! Prova Mirko! Prova Mirko! Corro pazzi. Mirko, squadra! Andiamo! Andiamo! 5.36 Ridho! Corri, corri, corri! Eccolo un punto. Eccolo meglio. Perchè, perchè. Perchè, perchè. Perchè, perchè, perchè. Perchè, perchè. Perchè, perchè! 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 però è ottima così la ripresa facciamo in carica allora ma Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni